Mi chiama la polizia di frontiera così come chiama quotidianamente anche gli altri sindaci e dice signor sindaco abbiamo rintracciato tot migranti dove li mettiamo? Ho dovuto stare lì tutta la notte per sorvegliarli. Ha dormito poco la scorsa notte il sindaco di Muggia Paolo Polidori che ha preso in carico due minori afghani rintracciati dalla polizia di frontiera vicino al centro commerciale Montedoro. Per legge sono i sindaci a dover rispondere dell'accoglienza dei minorenni stranieri non accompagnati e così per sorvegliare i due sedicenni Polidori ha pernottato in auto fuori dall'ex studio medico di Aquilinia individuato come ricovero d'emergenza non senza difficoltà. Mi sono attivato per ovviamente prima cosa per vedere se c'erano delle strutture convenzionate e libere, non ce n'erano. Detto questo ho provato a vedere anche in altre soluzioni ma non sicuramente quella di mettere in strutture non convenzionate anche perché non vado a spendere i soldi ai cittadini a botte di 290 euro a notte quindi le casse del comune non le vuoto e non spendo i soldi ai cittadini. Al che mi sono attivato per vedere se c'erano delle strutture del comune da poter allestire ovviamente in via emergenziale e così è stato fatto. Sono state portate due brandine, sono stati sistemati alla meglio come si poteva fare. Ho portato io da mangiare, da bere perché non c'è nessuno che ti dice ma ti porta questa organizzazione, ti porta la regione, ti porta il governo, ti porta la legge dice così affibbiati al comune. Però ovviamente ho dovuto star lì tutta la notte, coadiuvato fortunatamente da alcuni assessori, consiglieri miei che mi hanno dato una mano anche perché il pericolo è di essere accusati di abbandono di minore. Alle otto e mezza di mattina si sono presi, sono andati via ma il messaggio che ho dato e che ho voluto dare ha detto guardate visto che i collegamenti poi con la rotta, con quelli che arrivano, perché se trovi un posto bello poi dici ah guardate che qui si passa, qui si può stare, qui si è accuditi eccetera eccetera. Ma nudi e crudi diciamola così non c'è più posto, non ci sono più soldi. Questo è il tipo di accoglienza che possiamo dare, non si può fare di più.